Villa Maria, il nido chiamiamolo d'amore, che diciamo così ha unito Berlusconi a Francesca Pascale, sarebbe in vendita una bellissima dimora, fantastica, favolosa, immessa nel verde comprata da parte dell'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi nell'anno 2015 e sarebbe stata messa in vendita, 1140 metri quadri circa, immersa nel parco del verde a Rocoredo in provincia di Lecco non è tanto distante dalla città di Arcore, è una villa davvero lussuosa, fantastica, importante, 2 milioni e mezzo di euro, proprio la Pascale andò a coordinare tutti i lavori di ristrutturazione che ci furono e che in teoria verrebbe sui 30 milioni circa, ma sarebbe stata messa in vendita, diciamo che è una villa non malvagia, anzi molto bella da vedere e da apprezzare, a livello estetico è un qualcosa di sublime ed è più azzardativo e vediamo insomma chi sarà il riccone, il magnate, chi se l'andrà a comprare. Intanto vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, questo video non vuoi eredere la privacy di Silvio Berlusconi e di Francesca Pascale, ma solo informare eventuali persone. Grazie a tutti.